I lavoratori, i sindacati, si aspettano azioni del nuovo governo per quanto riguarda il comparto industriale della nostra regione. Si torna a parlare di problema di lavoro con il licenziamento annunciato dall'azienda Jabil di Marcianise. Si torna a parlare di problema di lavoro con i licenziamenti annunciati dall'azienda Jabil di Marcianise. In tutto a regime ci saranno 250 operai, i restanti 190 saranno licenziati. La giornata di domani è prevista una mobilitazione che partirà proprio davanti alla fabbrica. I sindacati chiedono un immediato intervento da parte delle istituzioni. Il segretario generale della Willing Campagna, Crescent Sauriemma, definisce la scelta dei licenziamenti una debacle industriale nel territorio casertano. Inaccettabile, dice, perché con il Mise vi era un accordo siglato. Anche il segretario della FIOM, CGL Caserta, Francesco Percuoco, commenta che il nuovo governo deve fare qualcosa per il piano industriale. Se le istituzioni che devono garantire che questo territorio che vive una crisi industriale spaventosa non può permettersi di avere altri problemi industriali ed occupazionali, non si impegna seriamente, bisogna avere più rispetto per i lavoratori che in una situazione così complicata poi devono fare una scelta e mettere in discussione il loro futuro e delle loro famiglie.